Buon pomeriggio, eccoci con l'incazzatore personalizzato oggi in versione elegante. Non me l'hanno detto. L'incazzatore personalizzato che si arrabbia al posto vostro per qualsiasi cosa, ma facciamo subito un esempio pratico. Pensate a quanto vi può essere utile quando i vostri amici vi obbligano ad andare al ristorante giapponese e il cameriere vi elenca le specialità della casa. Abbiamo paschomaki, tokoyaki. Ma che state tutto mriachi? Ma che è sta roba? O walkie-talkie, o tamagotchi, ma che vi ho mangiato? Ma non nemmeno una bella parmigiana, una pizza, salsicce e friarielli, panzerotti. La cucina di Meryl, una bella parmigiana.